Quindi parlo a nome di tutto il Rotary Club Monta e Brianza 1 e innanzitutto volevo ringraziare il numero di autorità che sono presenti oggi in sala le autorità rotariane di cui ringrazio il governatore Guastadisei del T32042 per essere qui con noi l'assistente del governatore Giovanni Bogani, il segretario distrettuale Laura Brianza ringrazio i presidenti, i 5 presidenti degli altri 5 club di Monta e quindi Luca Pancirolli, Francesco Cirillo, Daniele Valtolin, Giuseppe Morello e Franco Andretti che ringrazio particolarmente perché oggi noi siamo ospiti del Rotary Club Villareale visto che questa è la sede in cui loro si ritrovano. Ringrazio le autorità civili presenti grazie al sindaco per essere qui con noi, ringrazio il dottor Stocco che è il direttore generale dell'assistente di Monta di essere qui con noi e darei immediatamente la parola